Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là, sono un cuore vagabondo, chiedi regole. Avanti! No, no! Ma scusi, cosa vuole? No, cosa stai facendo? Ma scusi, lei mi stava interrompendo, io stavo facendo la registrazione della, diciamo, della mia canzone. No, però io gli volevo dire una cosa. Eh, ma lei mi ha interrotto nel momento che stavo cantando la registrazione della canzone, se è peccato, cadesse il mondo. Ho capito, io gli volevo dire una cosa. Me la dica adesso, dica, dica. Il corso per l'interrazione. Ah, ecco, così già ci siamo, mi dico. Allora, che sta facendo lei? Stavo cantando, se per caso cadesse il mondo. No, di quelli! Ah, e sto giocando con il computer cutter, che mi passo un pochettino di tempo, che è un pochettino. Tutto a posto? Tutto a posto. Bene, allora che le devo dire? La saluto, buona giornata. Che Dio ce la mando buona. Ciao, ciao! Arrivederci a tutte le ragazze.